E benvenuto a Daniele Matarozzi, dato l'invito a questa rubrica Innesti inattesi, curata dal Centro Servizi per il Volontariato, che vuole dare voce un po' ad alcuni progetti che si sono sviluppati all'interno della nostra comunità in questo periodo di lockdown. Daniele è il referente del Centro di Promozione per la Legalità, Lodigiano, che tiene dentro mi pare di ricordare 17 istituti. Essendo tu un insegnante fai parte dell'Istituto Capofila, che è l'Istituto di Istruzione Superiore, di Codogno, e poi negli anni 6 siete riusciti a coinvolgere anche tutta una serie di altri soggetti, tra cui associazioni di volontariato, proprio all'interno della rete. Lo svegliamo fin dall'inizio, anche noi abbiamo collaborato e poi magari diremmo come. Ci racconti un po' come è questa esperienza del CPL, almeno fino al blocco e poi vediamo cos'è successo. Allora, vabbè, chiaramente come hai detto tu, è il CPL, Centro di Promozione di Legalità dell'Odigiano, è uno dei 13 CPL istituiti da Regioni Lombardia e USR, Lombardia. 13 perché ce ne sono uno in ogni provincia e a Milano, essendo una presente insomma una concentrazione demografica molto alta, ce ne sono due, uno Milano provincia, uno Milano centro. In generale quindi lavoriamo, diciamo una rete provinciale, una rete fatta, costituita insomma, voluta da 17 istituti, inizialmente eravamo un po' meno, ma sto cercando di recuperarli un po' tutti, istituti che vanno dal comprensivi, quindi infanzia, elementari, secondaria di primo grado, fino ad arrivare alla secondaria di secondo grado, quindi proprio tutto, tutta la, tutte le età, tutte le fasce d'età presenti nella scuola. Ma non potevamo chiudere, secondo me una rete non può chiudersi in se stessa senza aprirsi al territorio in primis, perché comunque è un, tutti i progetti, sì, che vanno a appunto coinvolgere i ragazzi, ma in realtà bisogna anche dare un resoconto sociale, no? Si parla sempre. E quindi bisogna comunque aprirsi al territorio, aprirsi al territorio non si può non passare dalle associazioni di volontariato e sicuramente il primo interlocutore è stato il CSV, perché è il centro dei servizi del volontariato, cos'è? Lodi, Pavia, giusto? Cremona e Mantova, quindi un territorio molto, siete molto, diciamo, come zona, ecco, penso che sia in tutta la Lombardia e che è comunque un'associazione che lavora dentro le scuole, quindi è molto, è stato veramente facile per noi coinvolgervi, ma non solo, quindi grazie a voi siamo riusciti ad arrivare ad associazioni del territorio lodigiano, come possono essere Amici di Serena o Colbe, che è un'associazione di Milano e quindi stiamo cercando, o Lauser di Casalpusterlengo, insomma, stiamo cercando un po' di aprirci e cercare di coinvolgere anche queste associazioni per uno scambio reciproco e quindi nulla più, questa rete ha lavorato fino al lockdown con progetti, progetti che inizialmente fino a, diciamo, l'anno scorso, possiamo dire, si incentravano su una, come posso dire, sulla legalità in senso stretto, perché parlare di legalità si veramente, ci possono essere mille temi, ma la legalità in senso stretto nel senso di concentrarsi su storie di vittime innocenti di mafia, ma in quest'ultimo periodo stiamo cercando di formare il cittadino attivo e quindi significa dire anche parlare di altri temi che sono, secondo me, sotto comunque un cappello unico di legalità e quindi parlare di contro la violenza sulle donne, ma altri temi che può essere anche il cyberbullismo, quindi unire comunque colleghi che lavorano su quel tema, cercare di lavorare assieme, cercare di fare qualcosa di più in grande per cercare sempre di formare correttamente il nostro studente che sarà il cittadino attivo del futuro e quindi... Che è il vostro target specifico, quindi non solo gli studenti ma soprattutto, ma e quindi che cosa è successo a questo punto? È successo che tutti i progetti, tutte le attività sono state interronte bruscamente, inaspettatamente, c'erano progetti che, diciamo il nostro progetto fiorellocchiello che portiamo avanti grazie anche al CSV che è stato due anni fa, l'anno scorso, e avremmo riproposto quest'anno che sono i campi di volontariato estivi, ci stavamo per organizzare e stavamo anche proponendo, stavamo generando, creando di... facendo un programma sulla settimana della legalità che va sempre a cavallo del 23 maggio e è ricca di comunque impegni o comunque attività che vengono svolte dalle scuole che partecipano e il 21 febbraio sappiamo tutti quello che è successo, chiusura totale delle scuole, quindi siamo stati travolti da questa chiusura e quindi siamo dovuti innanzitutto riorganizzare come istituto, significa dire che in primis noi non dobbiamo dimenticarci che la scuola è didattica e quindi c'è stato un mesetto, diciamo così, dove ci siamo dedicati un po' tutti ai nostri istituti, quindi alla nostra didattica, ai ragazzi, cercare di coinvolgerli, cercare di portare avanti certi discorsi, anche se inizialmente secondo me si è un po' diciamo sottovalutato, non si è preso subito, ma inizialmente si pensava di poter tornare, no? Torneremo a scuola. In realtà dopo magari 15 giorni, dopo che è stato chiuso Codogno e quindi sono passati 15 giorni, zona rossa, quindi noi un istituto al centro di questa chiusura, no? Con particolari problemi perché uno dei nostri sedi è a Lodi, le altre due sono a Codogno, quindi non si sapeva inizialmente, soprattutto i primi giorni, come ci saremmo organizzati, perché ricordiamo che la scuola non è che può rimanere chiusa perché un preside o un, meglio, dirigente decide di chiuderla, non si può, è comunque un servizio pubblico e quindi è qualcun altro che deve tenere aperto, deve decidere se tenere aperto o chiudere. E quindi non avete trovato il modo per poter proseguire il lavoro. Ci ha chiuso, dopodiché, insomma, inizialmente con le piattaforme abbiamo portato avanti la didattica, ma non solo, non solo perché a questo punto, dopo questi 20-30 giorni, insomma, di concentrazione sui ragazzi, sulla didattica, abbiamo, ho pensato, perché l'idea è un po' venuta da me, di come poter tenere attiva la rete, no? È un po' il mio ruolo, il ruolo del referente è quello di cercare di attivare, non è che deve svolgere tutte le attività, tutti i progetti, ma deve cercare di attivare le persone e è un po' questo che ho cercato di fare. L'idea è stata quella di, ho detto, ma perché non ci rivolgiamo, come possiamo rivolgerci ai giovani? Qual è il mezzo comunicativo per arrivare prima a loro? Ed è Instagram. Instagram è la piattaforma che viene utilizzata tantissimo dai giovani e quindi abbiamo deciso, ho buttato lì l'idea di fare delle interviste, delle interviste a persone su varie tematiche. la mia idea folle, perché buttata lì così, è stata inizialmente esposta, comunque detta al gruppo, diciamo, più vicino a me. Più ristretto. Sì, più ristretto, perché sì, i sette, otto colleghi che chiamo, non sono colleghi, ma sono amici, perché anche un'idea così folle, nonostante il periodo, nonostante il fatto che uno si deve dedicare alla didattica e quant'altro, quindi ha tutta una serie di impegni coi propri studenti, decide di assecondare una folla idea di fare queste interviste. Ma ce l'avete fatta però, perché 325 follower, vedi su questo canale Instagram, diverse interviste, e chi è che avete intervistato e quali sono i temi che avete approfitto? Allora, sicuramente, come dicevo prima, l'idea di parlare di legalità in senso stretto, insomma, ormai non ci appartiene più. Cerchiamo un po' di allargare e cercare di trattare diverse tematiche. L'idea è sempre quella di arrivare ai giovani e quindi cercare anche dei temi che possono interessare maggiormente ai giovani, anche delle modalità differenti, che possono essere sì Instagram. Ma, vabbè, abbiamo iniziato per fare degli esempi con la didattica a distanza e gli intervistati l'hanno definita didattica della vicinanza, non della distanza, perché eravamo distanti fisicamente, ma vicini in senso di relazione con i nostri studenti, perché? Perché la scuola è un pilastro della nostra società e quindi i ragazzi effettivamente erano persi, sono persi senza la scuola. Ma non vi siete fermati alla didattica? No, assolutamente, abbiamo parlato di responsabilità attraverso un fumettista, Gianluca Buttolo, che lui ha pubblicato il libro fumetto La Scelta, che parla della bellissima storia definita così di Giorgio Ambrosoli, che è finita chiaramente, cioè, brutalmente, però la storia da raccontare è proprio bella, perché è piena di valori, è bella da portare avanti e far vivere ai ragazzi, perché, appunto, ti viene voglia, ti fa nascere qualcosa dentro, di dire, beh, allora se l'ha fatto lui, che era un uomo comune, ma aveva tanti dei valori presenti nella sua persona, allora posso farlo anch'io, allora mi posso dare una mossa anch'io, ed è proprio bella questa. Mi ha parlato di fake news, che è un tema attualissimo, perché soprattutto anche in questo periodo l'abbiamo visto, come alcune notizie prima dette, poi smentite, poi di nuovo, perché è non propriamente vero, quindi ci vuole sempre una consapevolezza in quello che uno va a leggere. Abbiamo parlato di limitazioni, ma poi, insomma, abbiamo un po' allargato lo spettro, quindi abbiamo parlato anche di foto, cioè di fotografia, di pittura, e abbiamo parlato di teatro al tempo del Covid, e non potevamo che anche trattare il tema della sanità, quindi abbiamo parlato con un medico che rappresenta la sanità e come è stato impegnato in questo periodo, insomma. E siccome c'è sempre bisogno di alleggerirsi, credo che l'ultima riguardasse, se non sbaglio, anche un comico locale. Sì, abbiamo voluto chiudere in questo modo, un po', diciamo, anomalo, perché sono sempre dell'idea che bisogna sempre prendersi un po' alla leggiera, no? E quindi chiudere con la comicità, che in realtà, secondo me, la comicità è un bellissimo strumento per lasciare il segno e parlare di valori, no? Sempre i comici, comunque chiudono con qualcosa di più serio, sempre, nel senso, nei loro monologhi, e così è stato. Abbiamo voluto intervistare Caccamo, che è un giovane, nel senso universitario, che sta facendo strada nella comicità e del nostro territorio, collabora molto con il cittadino, ha fatto anche una rubrica, anche lui in una modalità un po' differente, quindi video e testi, insomma, anche lì e anche in questo caso, insomma, diciamo che questo lockdown ha cambiato anche le modalità, no? E mi sembra anche che sia stato interessante, perché mi dicevi che sono stati coinvolti direttamente alcuni studenti, che hanno organizzato e portato avanti queste interviste, dico bene? Sì, alcune di queste interviste sono andate in diretta a Instagram, ma altre, quelle gestite diciamo da noi producenti, sono andate in diretta, ma da altre sono andate in registrata, quindi abbiamo registrato l'intervista e settimanalmente, quindi uscivamo con una registrata e con un'intervista in diretta, solitamente il martedì era la registrata e siamo riusciti a coinvolgere diversi ragazzi che si sono messi in gioco e un po' era un po' anche questa la nostra volontà. Inizialmente ci siamo chiesti se valesse la pena coinvolgere direttamente i ragazzi e far gestire a loro le interviste, ma come sappiamo un'intervista dietro un lavoro, quindi di diretta o comunque di intervista, c'è tanto lavoro da preparare e non può essere sottovalutato, quindi non può essere lasciato solo ai ragazzi, deve essere accompagnati, i ragazzi devono essere accompagnati. Il tempo non c'era per fare tutto questo, quindi abbiamo voluto sperimentare, andare subito al sodo cercando di arrivare al risultato, ma dall'altra abbiamo sperimentato queste interviste registrate che, devo dire, non sono niente male, insomma, anzi. E che sicuramente è stato un modo per acquisire delle competenze da parte loro, qualche battuta finale, proprio su quali sono, secondo te, secondo voi, per quello che hai respirato, un po' i frutti e le ricadute sulla città e se eventualmente questa è stata solo una occasione episodica, oppure pensate di… o meglio, cosa pensate per il futuro? Allora, le ricadute, secondo me, sono molteplici. In primis, devo dire che il lavoro è stato pensato per i ragazzi, per ispirarli, per poter affrontare questa nuova maturità in una modalità un po' differente, ma in realtà il cardine dell'orale era l'anno scorso, lo è quest'anno e lo sarà anche per il futuro, di parlare di… quindi una domanda di cittadinanza e costituzione. È una domanda a cui i ragazzi, insomma, se non hai vissuto, se non hai fatto delle esperienze di questa tematica, non è facile rispondere, no? Quindi ci sono ragazzi molto più sensibili, ma altri magari un po' meno. Quindi queste interviste sicuramente sono state condivise con i ragazzi per, appunto, prepararle alla maturità. Ma non solo, queste interviste potranno essere utilizzate per affrontare per il prossimo anno, per generare, creare, appunto, delle UDA per… Scusa, delle UDA che non è una parolaccia, ben si significa… Unità didattica di apprendimento, chiamiamola anche unità formativa, che praticamente è un percorso formativo che parte con diversi… insomma, hai un obiettivo e fai tutto un percorso, quindi attraverso anche l'utilizzo di vari strumenti che possono essere sicuramente dei video, delle foto, quindi cercare di attivare in modo un po' differente e arrivare, diciamo, a passare dei valori, come parlavamo prima. Quindi si può parlare di responsabilità partendo, per esempio, dall'intervista fatta a Gianluca Buttro o parlare di limitazioni partendo dal video. Non la toglierà, la possibilità, insomma, ci stiamo pensando di realizzarle noi, quindi dare un prodotto già finito sia ai nostri docenti, ai nostri colleghi della rete, ma anche in prospettiva di pubblicazioni, perché il CPL Lombardia, che è quello che ci coordina, ogni fine, diciamo, progetto, e quest'anno saranno tre anni, quindi questa è la prima annualità, ne abbiamo ancora due, svolgiamo delle pubblicazioni. Quindi, e non solo, parliamo anche di, in realtà, dei percorsi, un percorso formativo a tutti gli effetti, informale, perché gli adulti, o comunque anche i ragazzi stessi che ci seguono, svolgono questo percorso formativo senza, in realtà, accorgersene, no? E quindi è anche questa la cosa bella. Forse in modo più efficace, quindi stai dicendo. Sì, sì, assolutamente, in modo più leggero, perché è inconsapevole, e sicuramente anche il modo per lasciare dei semini, no? I famosi semini che poi germoglieranno. E l'ultima, sicuramente, le ricadute umane. Sicuramente abbiamo imparato molto, abbiamo stretto i rapporti, anche tra di noi, tra i diversi colleghi del gruppo, e abbiamo scoperto anche nuove modalità. Per il futuro, come mi chiedevi, sicuramente andremo avanti. L'idea ci è piaciuta tantissimo di proseguire queste interviste. Sicuramente vorremmo ancora più coinvolgere i ragazzi e farle generare, farle, insomma, svolgere a loro queste interviste. Ok. E vediamo se... Daniele, io ti ringrazio, ti ringrazio per aver raccontato con l'entusiasmo che ti contraddistingue e la passione. Questo progetto che inizialmente ha visto il modo per superare i limiti di una distanza fisica, come dicevi prima, ma che in realtà continuerà per ritornare e diventare e mantenersi un'occasione efficace proprio di promozione di cultura, da di legalità e non solo. Grazie Daniele. Grazie a voi. Grazie tanto. Ciao. Ciao.